Presidente Massimo Bitonci, come commenta queste nuove nomine che hanno messo in fibrillazione molti esponenti del PDL? Questo è stato un golpe da parte del PD di 5 Stelle, di scelta civica, anche di 5 Stelle, che ha garantito comunque il numero legale. Le commissioni vanno ripartite attraverso il criterio proporzionale dei gruppi, quindi anche alla Lega, anche al SEL e anche agli altri gruppi di minoranza. Il fatto di voler votare in maniera indipendente i presidenti di queste commissioni è chiarissima questa volontà di una futura, probabile nuova alleanza tra il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e scelta civica. Ci sta forse facendo una prova, delle prove di un governo letta bis. È comunque incredibile che si facciano questi golpi in Parlamento perché, come è noto, tutti dobbiamo essere rappresentati nelle commissioni, soprattutto in commissioni bicamerali importanti. Oggi si è votata la presidenza, per esempio, per quanto riguarda la delegazione Nato, il Consiglio d'Europa, ma soprattutto quelle che interessava anche noi per le questioni regionali. Noi siamo un partito federalista, autonomista, territoriale e quindi vogliamo avere anche noi dei rappresentanti all'interno di queste commissioni, che non sono certamente delle poltrone, sono dei posti dove possiamo far valere quelle che sono i nostri ideali e tutto quello che noi combattiamo da anni, gli sprechi e quello che vogliamo portare avanti, che è l'autonomia e il federalismo regionale.